di roma 1512 a lodovico di leonardo di buonarrota simoni in firenze carissimo padre io v'avvisai di quello che io m'ero informato qua e quello che ne avevo inteso cioè come l'era cosa più presto pericolosa che no dico del podere che in quel di prato pure voi siate insulfato e vedete intendete meglio di me fate quello che a voi pare della fede che voi volete che io faccia l'ospedalingo fate conto che io sia l'ospedalingo e fatemene un appunto con la soprascritta e con ogni cosa e io la copierò appunto e manderò vela perché io non so il nome suo e non la saprei fare sicché non abbiate paura che quando voi avessi comperato non volendo l'ospedalingo darvi i danari io verrei costa in persona farvegli dare se comperate non togliete presso arno o altro fiume cattivo abbiate cura quello che spedalingo vi vuol dare se lo potete tirare a prezzo ragionevole toglietelo e ancora quando fossi un poco disonesto ma non tanto sarei da torlo non mi accade altro qua non si vede ancora quel pericolo che costassi crede e dio ci dia grazia che la va di bene vostro michelagnolo scultore in roma mandatemi quella copia della fede appunto come voi volete che la stia e io subito ve la manderò e portatela all'ospedalingo e a rollo caro a ciò che è vega che non vogliano comprare a ogni modo